In questo video vedremo come si programma un TR611 Top 2 della Teben. Innanzitutto selezioniamo la lingua, italiano, premo ok, elimino eventuali programmi precedenti, premo ok, confermo, anno 2015, ok, mese 12, ok, giorno 29, confermo con ok, ora 14, ok, minuti 37, confermo con ok, Europa, immaginiamo ad esempio di voler comandare un cancello, per far ciò abbiamo bisogno del programma impulsivo, premo menu, confermo programma, nuovo, adesso posso scegliere se fare una commutazione semplice come il TR610 ad esempio oppure un impulso che è quello che serve a noi, seleziono impulso e confermo con ok, memoria disponibile 84, voglio fare un impulso in on, confermo, a che ora? Ad esempio vogliamo che ci sia un impulso alle 7 di mattina, minuti 00, ok, secondi 00, durata dell'impulso, 0 minuti e facciamo ad esempio 3 secondi che per un cancello può andare benissimo, ok, lo faccio lunedì, coppia, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, avremo un impulso alle 7 di mattina, domenica la scarto, premo salva, nuovo, facciamo un nuovo impulso, 83 memorie disponibili, un impulso sempre in on, commutazione, a che ora? Facciamo ad esempio mezzogiorno e 30, un'eventuale chiusura del cancello, 30 minuti, ok, e 0 secondi, ok, durata dell'impulso 0 minuti, facciamolo di nuovo di 3 secondi, confermo con ok, lo facciamo il lunedì, coppia, aggiungo martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, la domenica la scarto con la frezzetta, premo salva, facciamo un altro impulso, 82 memorie, sempre in on, facciamo un impulso ad esempio 15, e riapriamo il cancello, 0, durata on 0 minuti, facciamolo di 3 secondi, come sempre, medì, coppia, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, scarto la domenica e salvo, ripetitivo, facciamo un ultimo impulso, nuovo, impulso, 81 memorie disponibili, on, alle 19, facciamo 15, ok, secondi 0 0, ok, durata sempre 0 minuti, e facciamolo anche di 4 secondi, tanto per far vedere che possiamo fare impulsi diversi fra di loro, facciamo lunedì, coppia, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, riscartiamo la domenica e salva. Abbiamo visto quanto è semplice creare dei programmi ad impulsi sfruttando le potenzialità del TR611 top 2 della attivano.